E' inevitabile parlare di la sfida Juventus-Napoli che procederà fino alla fine del campionato. Tu che idee ti sei fatto? Ce la possiamo fare quest'anno a conquistare il tricolore? Io siccome sono pure io scaramantico come tanti ascoltatori, non dico mai una cosa così, però si può fare, diciamo rimaniamo con questo entusiasmo che ci portiamo dentro e comunque hanno fatto un bellissimo campionato, una bella squadra che fa spettacolo. Io mi arrecreio quando sto davanti alla televisione, metto in poltrono perché il presidente spesso mi invita allo stadio che io dico ma anche Canna perdonavola, chi le sa? No, tu ti devi sedere qua perché è molto superstizioso il presidente, quindi sono andato a varie volte, per fortuna ho sempre vinto il Napoli, però ho detto senti che preferisco vedermela in poltrono e sto più tranquillo, non c'è questa responsabilità. Infatti posso sentire in un'intervista che anche lui se la vede spesso in poltrona.